Il messaggio di oggi, ha un titolo particolare, è il fango. Il fango. Dobbiamo stare molta attenzione perché se perdiamo alcune parti poi non capiamo nulla alla fine, ma non è colpa del Signore. Era il 1984, Miriam e io, ci eravamo convertiti da poco, e andammo a un ritiro spirituale al Sasso. È una zona vicina a Firenze, chi la conosce, è una zona sulla collina, molto bella, dove in una casa colonica si riunivano dei credenti per meditare la parola di Dio, per lodare e cantare. Erano momenti di grande intensità, perché era l'inizio della nostra conversione, e avevamo una voglia, una sete, una fame di sentire parlare di Gesù, che andavamo in tutti i posti dove si parlava di Lui, non importa dove, purché sentissimo parlare di Gesù. In quella zona, in quella casa colonica, si univano anche molti che ancora non avevano accettato il Signore. Molti si univano. E siamo stati testimoni noi, in tutti questi periodi, di grandi conversioni, di decine di persone, che volevano accettare Gesù nella loro vita, perché sentivano qualche cosa di diverso, sentivano parlare di amore, di pace, di gioia, di rigore, ma sentivano parlare di aiuto, di incoraggiamento, e solo Gesù poteva darlo. E loro dicevano, se Gesù è questo, lo vogliamo accettare anche noi. Lo vogliamo accettare anche noi. Fu letto in quell'occasione, nel 1984, così sapete, ci siamo convertiti, nel 1984, abbiamo dato alla vita del Signore, abbiamo dei religiosi prima, ammessa qualche volta, forse per guardare quanto era lunga la pelliccia della persona vicina a noi. Fu letto in quell'occasione, del Vangelo di Giovanni, il capitolo 9, lo leggo, lo guardo io, non guardatelo. Il Vangelo di Giovanni, il capitolo 9. E i primi tre versetti, del Vangelo di Giovanni, al capitolo 9, i primi tre versetti, se li vogliono mettere, ci vennero incontro, ci toccarono, ci toccarono, e ci rivelarono tutto un tratto, quello che noi due e tanti altri eravamo stati fino a quel momento. non ce ne eravamo mai risi conto, ma quei primi tre versetti ci rivelarono cos'eravamo noi, cos'eravamo stati. Dice la scrittura, e mentre passava, vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. E i suoi discepoli lo interrogarono dicendo, maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Chi ha peccato perché è nato cieco? Qualcuno deve aver peccato, o lui o i genitori, perché è nato cieco. Ma Gesù rispose, né lui né i suoi genitori hanno peccato. Sentite cosa dice dopo. Perché questo vale per la nostra vita, fratelli. Anche quando le cose non vanno come noi vogliamo. Ma ciò è accaduto affinché siano manifestate in lui le opere di Dio. Faccio una piccola digressione. E' brutto doverlo dire, ma ho proprio pensato a questo. Molte volte il Signore ci usa come cavie. Permette che a noi succedano certe cose che attraggono l'attenzione degli altri per poi risolverle e far sì che attraverso quello che Lui fa in noi possono dare gloria a Dio. ad esempio uno ha una malattia sta male non è una cosa bella il Signore lo guarisce quella persona può andare a dire che il Signore l'ha guarito e dare gloria a Dio lo ha usato il Signore attraverso queste opere si manifestano le opere di Dio come succede nelle carceri. ho detto ai ragazzi voi che siete per le persone fuori dei delinquenti e nessuno vi vuole quando uscirete di qua sarete dei testimoni potenti perché potrete andare dai pedofili dagli spacciatori da coloro che hanno ucciso a dire io ce l'ho fatta ce la puoi fare anche tu. il Signore li sta usando come cavie affinché attraverso queste conversioni attraverso queste opere che il Signore fa nella vita di ognuno di noi tutti noi abbiamo avuto qualcosa di eclatante nella nostra vita. Prima di tutto siamo stati risuscitati dal peccato. Il miracolo più grande è stato che eravamo morti nei falli e nei peccati ora siamo vivi in Cristo Gesù. Questo è il miracolo più grande. Cerchiamo sempre i miracoli negli ospedali ma guardiamoli noi che eravamo morti nei falli e nei peccati eravamo sotto l'ira di Dio ora siamo liberi in Cristo. Questo è il miracolo più grande. Vogliamo vedere altri miracoli ma guardiamo noi stessi davanti allo specchio io sono un miracolo. Questo dice il Signore e attraverso di me attraverso di te di te di te di te si deve manifestare la gloria di Dio questo è quello che il Signore vuole. Allora in quel momento ci rendemmo conto di una cosa straordinaria c'è chi fin dalla nascita eravamo stati anche noi c'è chi fin dalla nascita e poi si era manifestata attraverso di noi con la nostra conversione l'opera gloriosa di Dio ma c'è un ma c'è sempre un seguito nelle rivelazioni ma rileggendo questo brano ho notato quel fango che il Signore fece con la saliva e come con quel fango lui spalmò gli occhi del cieco prende del fango sputa sul fango fa una miscela e gliela mette sugli occhi a uno che era cieco sulle palpebre fino a quel momento qua bisogna stare molto attenti perché è una rivelazione fino a quel momento molto probabilmente una mia rivelazione pur senza vedere perché era cieco gli occhi del cieco erano aperti erano aperti non vedeva ma sicuramente le palpebre erano aperte gli occhi erano aperti ma quel fango che Gesù ha messo sulle palpebre ha impedito a quel cieco di aprire le palpebre perché bloccate dal fango che le ricopriva Gesù mette del fango sulle palpebre il fango impedisce a quel cieco di aprire gli occhi questo è quello che fa Gesù col fango forse forse in quel momento quell'uomo si è rese conto dell'impossibilità di aprire gli occhi ed ecco l'ordine del Signore lui si rende conto che non può aprire gli occhi sono col fango che il Signore ha messo sopra arriva l'ordine del Signore sentite cosa dice va lavati nella piscina di Siloe va e lavati nella piscina di Siloe cosa fa il cieco con le palpebre chiuse va si lava e ritorna che ci vedeva va si lava e ritorna che ci vedeva il Signore vuole che quel fango che lui ha messo venga eliminato ma solo l'acqua può toglierglielo gli dà un ordine vai e lavati solo l'acqua può toglierlo e perché l'acqua abbia il suo effetto il cieco deve obbedire deve andare lavarsi e quando ha obbedito vai e si lava ecco la vista che arriva poi comincia per lui un momento in cui tutti vogliono dire alla loro c'è un miracolo lo vedono ma tutti hanno qualcosa da dire vogliono assicurazioni dice la parola che lui sia lo stesso che era seduto a mendicare ma eri proprio tu non è possibile non ci vedevi lo tempestano di domande mille domande lui cosa fa risponde semplicemente e al versetto 11 raccontando i fatti perché tutti gli fanno domande e tutti vogliono sapere e tutti mettono dei dubbi lui risponde in questo modo un uomo chiamato Gesù un uomo attenzione chiama Gesù un uomo un uomo chiamato Gesù ha fatto del fango mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto va alla piscina di Siloe e lavati e io mi sono andato sono andato mi sono lavato e ho recuperato la vista questi sono i fatti qualcuno si è avvicinato a lui un uomo chiamato Gesù e lui ci vede questo è quello che lui racconta ma ecco che dopo questo cosa succede intervengono i religiosi i farisei che hanno sempre qualcosa da dire da chiedere perché loro sanno loro conoscono ma lui continua a ripetere mi ha messo del fango sugli occhi mi sono lavato e ci vedo lui continua a rispondere a questo senza tante storie mi ha messo del fango sugli occhi mi sono lavato e ci vedo e ancora gli fanno delle domande e che l'uomo cosa fa? comincia a capire a intuire che colui che gli ha messo del fango sugli occhi non è semplicemente un uomo come tutti gli altri come lui ha detto un uomo chiamato Gesù lui si rende conto che quell'uomo non è un uomo come tutti gli altri e quando gli viene chiesto tu che dici di lui per il fatto che ti ha aperto gli occhi cosa dici di lui? ti ha aperto gli occhi cosa dici? e lui dice non dici più un uomo chiamato Gesù è un profeta sale allora vengono chiamati i genitori addirittura non vogliono esporsi stanno zitti e arrivano altri ad accusare Gesù definendolo peccatore perché fa miracoli in giorno di sabato lo definiscono un peccatore i farisei i religiosi che conoscono più di Gesù ma colui che ha recuperato la vista non si interessa di tutte queste cose fa un'affermazione straordinaria ascoltatela attentamente e dice se sia peccatore o no io non lo so una cosa so prima ero cieco e ora ci vedo se sia peccatore o no io non lo so una cosa so prima ero cieco e ora ci vedo e successivamente al versetto 32-33 afferma dal principio del mondo non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato sentite dopo la fede come cresce nonostante tutte quante i dubbi dei farisei dei religiosi con tutte queste domande la sua fede continua a crescere e lui dice dal principio del mondo non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi ad un cieco nato se costui non fosse da Dio se costui non fosse da Dio non avrebbe potuto fare nulla e i farisei cosa fanno invece di accettare quello che dice inveiscono contro di lui lo accusano inveiscono contro di lui vuoi insegnare a noi tronfi e pettoruti vuoi insegnare a noi religiosi che conosciamo tutto a memoria e cosa fanno lo cacciano fuori nonostante quello che hanno visto nonostante quello che ha detto vanno là inveiscono contro di lui lo offendono e lo buttano fuori poi c'è l'incontro con Gesù poi c'è l'incontro con Gesù dal versetto 35 fino al versetto 38 si dice Gesù guardate che meraviglia il Signore non solo lo guarisce non solo gli dà gli fa del fango glielo mette sugli occhi non solo gli dice vai e lavati e prendi quello che io ti dico così potrai vedere non solo lui vede che lui vede ma lo segue addirittura non lo lascia lì lui vede che lo trattano male lui vede che lo buttano fuori cosa fa? va da lui Gesù seppe che lo avevano cacciato fuori e trovatolo cioè vuol dire che è andato a cercarlo Gesù è andato a cercarlo poteva dire ho già fatto il mio miracolo si vede la mia grandezza si vede chi io sono è andato a cercare uno che è stato offeso è buttato fuori per colpa sua perché non volevano credere a questo miracolo perché volevano fare loro quello che Gesù ha fatto noi siamo più grandi di quello che dici tu cosa fa Gesù? Gesù esce lo va a cercare e lo trova lo trova non dice dove era vuol dire che è andato a cercarlo lo trova e gli dice credi tu nel figlio di Dio? non gli dice dimmi che sono bravo ci vedi bene? io l'ho fatto Gesù non dice nulla per innalzarsi nonostante quello che ha fatto nonostante le meraviglie non si dà delle arie gli dice credi tu nel figlio di Dio? sentite che ti ho una domanda strana credi tu? ed egli rispose e chi è signore? chi è signore? cioè padrone perché io credo in lui e Gesù gli disse tu l'hai visto ed è proprio colui che ti sta parlando allora l'uomo disse io credo signore e cosa fa? lo adorò io credo signore e l'adorò in questo momento colui che gli ha dato la vista che è Gesù e lo ha reso consapevole della sua cecità mettendogli il fango sulle palpebre non è più un uomo chiamato Gesù non è più un profeta è il figlio di Dio che stabilisce con il cieco nato una relazione profonda e intima perché diventa il signore non è più un uomo non è più un profeta ma diventa il signore questa è la cosa meravigliosa diventa il signore e lui lo adora nel mondo cari fratelli veniamo alla conclusione oggi non è molto lunga vagano tanti ciechi io ero uno tu eri un altro tu eri un altro tu eri un altro tu eri un altro ora ne vagano tanti di ciechi e molti di loro non hanno la consapevolezza di essere tali ecco perché è importante evangelizzare ecco perché è importante andare a parlare di Gesù ai ciechi che sono nel mondo ci sono tanti ciechi fuori dobbiamo alzarci dalle nostre comodità ed uscire a dire al mondo che c'è un signore che toglie la cecità questa è l'evangelizzazione il signore vuole che noi che abbiamo ricevuto la grazia di poter vedere andare dagli altri e dire io ho visto perché c'è un signore che fa miracoli e prodigi tu puoi vedere lo stesso perché lo stesso signore che ha dato me la vista la può dare a te ecco perché è importante andare fuori è vero dobbiamo parlare con chiunque del signore ma fuori c'è un mondo che muore fuori c'è un mondo che muore e basta che noi ne troviamo uno solo nella nostra vita il signore ci darà una corona perché quella persona sarà e dirà sono in cielo per te sono in cielo perché tu mi hai annunciato che c'era un guaritore che è Gesù e io l'ho adorato come signore ecco perché è importante l'evangelizzazione quando si va a evangelizzare ci vorrebbe la fila per andare a evangelizzare perché andiamo ad annunciare Cristo crocifisso perché ci sono tanti ciechi e se nessuno avesse annunciato a noi il signore noi saremmo stati ciechi ancora oggi ciò che è stato fatto a noi facciamolo agli altri gratuitamente abbiamo ricevuto gratuitamente diamo abbiamo o non abbiamo un giorno sentito parlare di Gesù di un Gesù che ci ama di un Gesù che ci rialza di un Gesù che ci apprezza di un Gesù che ci dice tu vali e faccio il dito va là e va là e va qui tu vali il mondo ci dice non vali niente andiamo a dire agli altri il mondo ci butta in terra il mondo ci vuole distrutti ci rialza poi ci ammazza Gesù invece ci rialza e ci tiene in alto andiamo a dire a un mondo che muore che c'è un Gesù che dà la vita lo hanno detto noi un giorno se la nostra vita non è cambiata con Gesù cosa stiamo a fare qui cosa veniamo al culto a fare cosa lo diamo a fare cosa preghiamo a fare cos'è una religione una bella abitudine o veniamo per adorare colui che ci ha salvato dalla morte colui che ci ha perdonato da ogni peccato colui che è morto per noi veniamo ad adorare questo non perché stiamo insieme cantando una bella canzone e sentendoci bene andiamo a dire al mondo che c'è un Signore che dà la vista ai ciechi perché il mondo è pieno di ciechi molti di loro vedete fuori non hanno la consapevolezza di esserlo perché la prima domanda che ci dicono ma cosa mi vieni a parlare di Gesù io non ho né ucciso né rubato bene allora pensi di essere migliore di uno che è ucciso rubato non è così l'ho detto altre volte nel Vecchio Testamento per essere un omicida tu dovevi uccidere una persona il Vecchio Testamento nel Nuovo e poi diciamo il Vecchio Testamento era un Vecchio Testamento è duro sapete cosa dice il Nuovo Testamento ve l'ho già detto un'altra volta che basta che voi diciate racca in ebraico vuol dire stupido a tuo fratello il Signore ti considera un omicida ci mette pari tutti ci mette pari tutti nessuno di noi merita nulla dobbiamo andare nel mondo a dire che c'è un Signore che ci rialza quando noi ci avviciniamo le persone qualsiasi persona in qualsiasi modo in qualsiasi momento in casa fuori ovunque quando ci avviciniamo alle persone e portiamo il messaggio di vita che è il Vangelo che è la parola di Dio perché l'unica parola che dà vita è la parola di Dio tutte le altre sono nostre idee personali l'unica parola che salva è la parola di Dio il resto non salva la mia idea non ti salva la mia rivelazione non ti salva è la parola di Dio che ti salva che è immutabile da secoli e lo sarà per sempre allora quando portiamo questo messaggio alle persone è come se stessimo spalmando ascoltate attentamente quando noi portiamo questo messaggio non dobbiamo sentire andare fuori dobbiamo parlare io non so se il signore sentisse quando parlava so che parlava parole di vita eterna quando noi pronunciamo parole di vita eterna alle persone che incontriamo è come se noi stessimo spalmando del fango sulle loro palpebre che da loro consapevolezza di non poter aprire gli occhi perché sono ciechi ma il fango da loro consapevolezza che non possono nemmeno aprire gli occhi e questa è la parola di Dio ma non basta questa consapevolezza di dire io sono cieco e non ci vedo ci vuole la volontà di togliere quel fango da parte di colui che riceve la parola di togliere quel fango di prendere fra le mani l'acqua della vita che è Gesù lo Spirito lo Spirito Santo le mani dell'acqua della vita che viene offerta da noi perché abbiamo ricevuto e possiamo darla di eliminare questo fango con l'acqua della vita e allora potranno vedere ma devono fare questo atto prendere l'acqua togliersi il fango e potranno vedere una volta che si è visto coloro che ci circondano possono dire quello che vogliono una volta che si è visto uno può dire quello che vuole possono provare insinuare mille dubbi possono dire quello che vogliono ma con quel cieco nato si può affermare con forza una cosa sola so che prima ero cieco e ora ci vedo dite quello che volete confrontate le vostre teologie datemi le vostre dottrine fate le domande che volete una cosa so che prima ero cieco e ora ci vedo e ora ci vedo ora sono in grado di nuotare nel fiume della vita che Gesù mi ha messo a disposizione e nessuno mi farà affondare perché nella mia barca c'è Gesù e anche se arriveranno le onde quante onde arriveranno c'è Gesù nella barca e vedete quando in una barca c'è qualcuno finché l'acqua non viene dentro non affonda ma con Gesù l'acqua non viene dentro ci sono sballottamenti delle onde ma la barca rimane asciutta perché Gesù è lì e non affonderemo mai con Gesù nonostante gli uragani e le tempeste quando Gesù è con noi non affondremo mai ho letto una storia e ve la dico un teologo e uno scienzato sono su una barca su una barca remi guidata da un rematore semplice che li sta facendo attraversare il lago il teologo si rivolge al rematore questo uomo che rema dicendogli quanto ne sai di teologia il rematore risponde nulla risponde il teologo allora hai perso un quarto della tua vita puoi prendere la parola allo scienziato e chiede al rematore quanto ne sai di scienza il rematore risponde nulla allora lo scienziato risponde allora metà della tua vita se n'è andata allora metà della tua vita se n'è andata il rematore tace non dice nulla continua a remare ma dopo un po' si rivolge al teologo e allo scienziato e chiede avete conoscenza di come si nuoti nessuno dei due sapeva nuotare allora il rematore disse bene questa barca sta affondando quindi tutta la vostra vita se ne andrà vedete non è la teologia che ci apre gli occhi non è la dottrina che ci apre gli occhi non sarà la scienza a farci comprendere che siamo nati ciechi ne ha la teologia a farci comprendere che siamo nati ciechi sarà solo la nostra immersione nell'acqua e della vita che toglierà dagli occhi quel fango che tiene chiuse anche le palpebre e rende consapevoli di avere bisogno di aprire gli occhi e quando si decide di lavare gli occhi di togliere il fango e quando ce lo siamo tolti per obbedienza al nostro Signore Gesù allora ci inginocchiamo lo adoriamo adoriamo colui che è davanti a noi come fece il cieco nato allora ci rendiamo conto che la vita inizia quando noi vediamo inizia una vita nuova disse il Signore a Nicodemo se non nascerai da acqua e da spirito non potrai entrare nel regno di Dio ma i passi da seguire sono quelli che ha seguito il cieco nato il fango lo rese consapevole della sua cecità completa e allora cosa fa si alza va alla piscina di Siloe si lava e recupera la vista perché ha obbedito il Signore ci dà la consapevolezza della nostra cecità dobbiamo fare la nostra parte e allora se noi facciamo la nostra parte con obbedienza al Signore si manifesterà la gloria di Dio e noi che abbiamo cominciato a vedere possiamo uscire nel mondo e dire a coloro che non ci vedono io so come tu puoi vedere dire a come da quale oculista devo andare c'è un oculista che è sempre disponibile 24 ore su 24 che è la medicina giusta e si chiama Gesù vai a lui e vedrai e da lì vedrai la gloria di Dio perché la nostra vita fratelli non è una vita da ciechi la nostra vita prima di conoscere Gesù è una vita nulla vuota senza nessuno provate un attimo a pensare cosa avevate prima di conoscere Gesù eravate contenti? no avete avuto dei traumi nella vita? sì a chi li davate? alla rabbia diventando sempre peggio ho avuto questo per cui lo faccio anch'io mi ha fatto questo lo faccio anch'io poi viene Gesù nella nostra vita e ci dice ehi 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 il tuo peccato mi ha mandato sulla croce e io ti ho perdonato perdona anche tu apri gli occhi ubbidisci a me e la tua vita cambierà e posso dire cari fratelli perché ormai vi conosco e ci conosciamo che le nostre vite sono cambiate conosco alcuni di voi prima della conversione e c'è una differenza sostanziale come conoscete me prima della conversione perché adesso abbiamo una persona che ci dà la vista che si chiama Gesù Cristo questo è quello che il nostro Signore ci dice oggi laviamoci con l'obbedienza togliamoci quel fango e andiamo nel mondo a dire tu puoi vedere se obbedisce al Signore questo è quello che dobbiamo fare l'obbedienza fratelli è la cosa più importante che ci sia non è la nostra conoscenza non è la nostra religione non è la nostra dottrina è Gesù Gesù incarna tutto e pienamente è Gesù lo stesso ieri oggi è in eterno e non cambia mai mai